C'è anche l'impresario Edile Saverio Guerrato, uno dei titolari dell'azienda che sta costruendo il nuovo ospedale di Asiago, tra le cinque persone arrestate questa mattina nell'inchiesta sulle tangenti alle terme. Guerrato, ora ai domiciliari, è finito in manette con il neo eletto sindaco di Avano, Luca Claudio, l'ex primo cittadino di Montegrotto, Massimo Bordin e altri due imprenditori. Le accuse a vario titolo sono concussione, corruzione, riciclaggio, induzione in debita a dare o promettere vantaggi e turbativa degli incanti. Inevitabile dunque pensare che la vicenda possa avere ripercussioni anche sui lavori del nosocomio di Asiago. Siamo andati a chiedere spiegazioni direttamente alla direzione dell'Ulstrae. Noi abbiamo un rapporto contrattuale con l'impresa, il rapporto contrattuale è molto chiaro su quello che ci aspettiamo dall'impresa e finché l'impresa adempia quelli che sono i suoi doveri noi non abbiamo nulla da eccepire. Quindi finché non vediamo cose che possano poi mettere in discussione la consegna finale dell'opera siamo abbastanza tranquilli. Quindi al momento l'ospedale di Asiago, diciamo così, il nuovo ospedale di Asiago non è a rischio? No, direi di no. Le previsioni di consegna sono fine 2017 e poi fine 2018 all'ultimo straggio.